Adesso sotto i nostri occhi abbiamo sentito a un certo punto sette colpi di pistola, purtroppo a terra c'è un carabiniere, ma non sappiamo se sia morto o ferito e ce n'è un altro ferito, sono due carabinieri che sono stati, insomma c'è stato un attentato, è proprio un attentato questa mattina che si viste, guarda